E bello ragazzi sono Bombola01 e in questo nuovo video andremo a spacchettare finalmente le 15 casse In questa stagione come vedete non ho tanto giocato a portare il blu in alto ma in questa stagione andremo a cercare di portare Shelly al grado 25 Prima però vi ricordo se non l'aveste ancora fatto di iscrivervi, attivare la campanella e lasciare immediatamente un bel like E da oggi sarà disponibile che chi commenterà, il primo che commenterà su questo nuovo video sarà salutato in un prossimo video Quindi fatelo Quando prendiamo questi gettoni e scattiamo Vediamo, andiamo a 9600 coppia E anche un'offerta secondo me, facciamo la Maxin E anche le box qua Va bene, andiamo subito con la prima box carichissima Ovviamente se troveremo alcuni oggetti li andiamo a provare in game La prima cassa, 53 monete, Taro, Enzo, Mr. P Scusate la seconda, terza, terza cassa enorme 52 monete, Rosa, Tic e Piper 73 monete, Mortis, Brock e Pam 58 monete, Brock, Enzo e Rosa 116 monete, 8 bit, Mortis ed Energetic 32 monete, mi sa che c'è qualcosa, Dynamite Esatto ragazzi, subito skip e Luminoso, Bibi E troviamo l'altro gadget di Bombarino Poi andremo a provarlo, vi ricordo Prossima, 45 monete, Rosa, Mr. P e Carlo 49 monete, solo 2 skip, Brock ed Energetic 46 monete, Bo 8, Taro 10 e 8 bit 30 Prossima cassa per noi, 78 monete, Taro 8, Iris 12 e Renni 14 107 monete, Bo 12, Bibi 12 e Mortis 13 107 monete, prossima box, 60 monete, Bo 11, Bombardino 12 e Penny 12 Mancano solo 2 big box, 45 monete, Penny 8 e Bombardino 26 Ultima big box di queste 15, ma in casse che Cassa enormica mi ha spacchettato, 82 monete, Bibi 12, lo possiamo anche portare Bibi 14 e Maxine 15 Ora come vi avevo promesso, andiamo a provare Dove, 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 Bombardino? Eccolo qua ragazzi Ah no, è solo un gadget Andiamo a selezionare, io direi, il ricercati Lo proviamo in sopravvivenza in 2 e andiamo, let's go Poi mi porterò magari un altro box opening con le casse rimanenti Prima che finisca il brol pass, forse saperemo anche il prossimo, vi ricordo Che uscirà low Brolore cromatico Aiuto ragazzi, mi ha laserato Non so cosa serve, proviamo ad usarlo Ah la 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 Ti dà vita, buono 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 questo gadget Aiuto ragazzi mi hanno laserato Chi l'ha tapam, mi ha aiutato, i miei compagni squadre Ancora 8 bit con 4 power up Chi lato, no è rinato No, 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 no Non ci voglio credere raga Ok, no, chi lato Quanto 4 squadre Il manino di Dante ha chi lato Berilo Dirà abbiamo un Bombardino E un Iris Sosi Giopi Vi giuro raga che è almeno la quarta barra quinta volta Che lo trovo in un game Non so se sia quello vero o quello fake Però Tanto Ancora 3 squadre rimanenti Non mi aspettavo Due con l'altro team Manca solo il Beryl E l'abbiamo killato Ah no raga Ok, non pensavo che avessimo finito Quello sperato Non è vero Done Mike Let's go Abbiamo vinto Forte Noi tanto come siamo Come siamo messi con i Brawler 34 Ce ne mancano Sei da trovare Intanto come potremmo Potevano trovare anche Le varie abilità stellare Un po' di Brawler Genendo al massimo Qualcos'altro al massimo Il primo abbiamo solo un gadget Invece di Jesse Abbiamo Quello solo abilità Star power Colto amalsato Nita manca solo un gadget E anche Sally manca solo un gadget Bene ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Se fosse così Hai fatto un bel like Vi ricordo che Il primo che commenterà Lo saluterò In un prossimo video E ci vediamo